Bello. Ok. Ora vedo il mouse. Però, non posso imitare i miei amici, potremmo fare. Vediamo un po'. Ah si. DAAKETE! Rank? Parti mempers must reach level 10 to play this. Eh? Ma che cazzo? Ah ok, adesso va. C'è una like della madonna, mi sa. Ho messo ready, ma non mi sembra che lo mette. Ecco, tutto di farlo. Eh, mi sa che è un po' una merda su un momento a giocare. Ci sarà un casino su loro, sarà di merda. Sì. Ma sì. Lo strancio tra Sperry by, sicuro. Sì, froci. Così ci mette. Adesso sta caricando a me. Io sono dentro con un altro. Ma con un altro? Eh, manchi te, non so dove sei. Siamo in due per ora. Io non sono ancora dentro. Io sono ancora nella lobby e ti vedo te che non hai... Come se non sei ready. Eh, avranno problemi, figli di puttas. Se guardi lo stream, vedi che ci sono meglio un altro. Come on, bud, time to win. Oh, oh, oh. Cosa? Adesso, adesso sì, adesso sì. Oddio, ma che lag. Sì, ma non so che cazzo è. Eh, speriamo che sono dei server diversi adesso. Non so come funziona. Io non ho regrette. Non è nel mio DNA. Io non so, mi credo. Ah, porco Dio, allora... Dove andiamo, qua? Come vuoi? No! Come no? Ma ciò, ma... Non dobbiamo mettermi stress. Reinyard? Non è mai troppo presto, ma... Non è mai troppo presto, ma... No, no, no. Non è mai troppo presto, ma... Non è mai troppo presto, ma... No, 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 no... No, no, no. Ragazzi, c'è un team appena attaccato noi. I'm going over there. Più altri sopra... Merz, troppo sotto, vaffanio. Perf... E mi hanno lanciato una granata, man, porco dio che male E mi stanno prendendo pugni Raffanculo, va Tu sei? Ah, dall'altra parte, ok Mi devo prenderla, devo solo prenderla un po' Perché se non si è Eccoci siamo Con l'Mlock è già meglio Che la P2020 Arrivo Qui sono proprio da parte a un beacon Tu stai giù che mi, ecco grande, ecco dio se ne stai, eh ma tu sei intelligente, mezzo Non devo neanche dire queste cose Grazie Adesso dove vado? Ciao Io li vedo già correre verso di me E possiamo scappare via, boh Andiamo 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 Dove, 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 dove Eh, via Andiamo qua Andiamo qua E' una merda perchè è una merda perchè è un po' di culo e con le armi non sei una merda Un po' di culo e con le armi non sei un po' di culo e con le armi non sei una merda Dove Con questo qua l'ho invitato, era bravo, però lui nonピora Però va No? Cioè, nel senso, magari sì No, come fa a saperlo Non è ben giocato praticamente The most important is by the enemy All the monsters Yesss Yesss Cosa? Ah, è già partito? Eh no, ma è che la gente non sa buttarsi, se hai del luzio di buttare. Eh, ma avanti più limita. Eh, ma hai detto, è una stronzata, perché si buttano tutti sulla sotto la riga, devi andare sempre da parte, almeno non devi fare la lotta di chi ha la cosa più veloce, più velocemente. Eh, allora degli lì no. Eh, vanno tutti lì, guarda lì, quattordici in dropship, undici, eh vanno tutti lì. Eh, è quello, è di più subito troppo presto, perché guarda quelli che si buttano dopo. Eh sì, guarda lì lì, uno, due, tre team, tre team vanno lì. Eh, no, però arriviamo prima noi, eh. Dove? Non l'ho cliccato. L'ho cliccato. Questa è un emlock. Amlock here. Three round burst. Best they are at range. Reloading. Havoc rifle here. Hostile right here. Non si 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 non si. Nicholas, out of the battle. Taking a moment. I've goto that. Just us. Now, gotta watch each other's back. Watch each other's up. We're down. due da un due da un guazzate guarda vaffanculo di peacekeeper ho fatto la finisher perchè hai su lì vai su lì sono qua zio e 45 sec ring in close hey got our squad mates banner hold tight i got you back it wasn't my time no no municióni però i need help r301 bella ehi no no ho delle cose da darti ho bisogno di un extended mag per le levi si 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 lì terra lì ah no per levi no per levi no watch out is coming is coming kill him kill me it's on oh he's moving Dov'è? Fingamano? Eh, qua, segui me, segui me! Andato di qua eh? Eh, troppo lontano man Dov'è il nostro amico? Eh, botto, bisogna il di di, eh, eh, health Ne ha, ne Oh, non, non, cazzo Oh, solo le bordo Ok, non, 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 non Ah, io sto pravi se hai light ammo dimmi perché non ho un cazzo di light se prendo ce le do quando ti vedo eh ma se le ucci scusa le bombe sono dry eh arriva al cerchio non c'è un tiro non c'è qualcosa di buono esploriamo 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 over noi dobbiamo in quarter qui grandi c'è un 것이 dove sono un matar i credo che ok ma cazzo sono? e usciranno dove? ah dove? io non ho da provare cazzo sono? dovremmo uscire di qua nessuno di noi ha vita guarda che siamo messi male però dobbiamo ucciderli dove? rinori ah li vedo sono sopra sono sopra esatto sono dentro? sono dove 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 sono ma cazzo sono? sono ci sono sono i scopi di un momento un'è un'è che ho bisogno di metterlo arriva qualcuno, coprimi peccato e abbiamo tutto la sfida che non avevamo vita neanche un po' di siringa, mad, kidney eh si beh un vita da questo non era male si ma level up ma non ho vinto un cazzo io non ho ancora vinto niente da quando... se io ricevi roba ogni livello, si ti basso qua eh buono, ho ancora salito io ho sbloccato un altro apex cosa ma perchè sono livellato normale eh eh non vedo quella cosa come la Bea cazzo di tiro magari adesso sta già tornando e non so non è che non puoi giocare perchè non ce la Bea mi becca a giocare e poi arriva e dici finisco e ci sono eh ma no, dovrei lavorare man no no tu dice non lavori e non pulisci la casa e se grattarti il cazzo non fai niente invece se lavoro non ha scuse che non ho pulito tutta la cucina ci sono cose in giro che vuol dire che è appena iniziato mi dico se stai stando un bug per lavoro eh mi stacca è arrivato adesso, ho sentito la macchina che cazzo è una Lamborghini che la senti da fuori ah ho sbattuto la porta vedi che stai aspettando alla fine della simulazione che è da mostro e in quatt'ora devi finire comunque lavorare ormai le simulazioni ci metto mega tanto cosa bastardo? vedi che stai aspettando alla fine della simulazione devi continuare a lavorare dopo bello e vero uh andiamo lì? ah mi piace lì perché dopo andiamo al cerchi, al ghiaccio c'è il treno andranno tutti lì dai andiamo andiamo ma io mi fido, chiudo pure il gioco mi metti 600 in giro con che altro lì c'è un team che anche sta andando lì ah no adesso sta andando al coso di ghiaccio ah c'è il treno c'è il treno un amico dove? qua 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 no no un'arma io devo riusciare sono due sono due ma quando hai un sino che da te sono Danielle oh da one anch'io �라 vinite da me vinite da me sta gestando l'amiro eccolo 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 qua Venite da me, venite da me, venite da me, venite da me! Sta restando la bippa, eccolo, 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 qua! Ma cosa fa il nostro amico? Dai, mongolo! Amico è morto! Ah, possiamo luttarlo, questo! Lì lo va a prendere, ma io non ho un'arma da uomo. Qua c'è un'arma da uomo. Qua, qua, qua! Ah, lo vedo, lo vedo, vado fuori. Sì, però fuori! Ah, sì sì, non hai ragione, ragione. Cosa è? Cosa è? Ah, boh. Insomma è dentro. Dovrà salvare il suo amico, eh, prima o poi. Lo sento! È sopra qua! Cosa è? Cosa è? Eh, lo sento, non lo vedo. È andato sopra. Pieni sopra. Lancio una granata allora. Allora ci sono su io adesso. Lo vedo. È sopra? Come fa ad essere solo lì? Ah, ha preso questo. Andiamo anche noi. Arrivo. Sono tanti, eh. Non è solo uno. Un altro qua, un altro qua. Un altro sotto qua. Eccolo qua. Due. Sono andati via, sono scappati. Un altro qua. Eh, bel lavoretto abbiamo fatto, eh. Fenix. Sento passi. Eccole, qua, qua. Non posso caricarmi. Vai, 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 vai Pinga ma licele vedia Nice 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 Tutti Andare di nuovo Il cerchio cazzo è lontanissimo E io non ho ancora un casco se lo vedi Dimmelo perché Guai la tower di ghiaccio No no la tower di ghiaccio non è nella linea zio Guarda il cerchio E' lontanissimo dobbiamo veramente andare Io prendo l'altra jump tower Ce la fai zio? Sto arrivando E' l'altro mio astro amico che l'abbiamo perso praticamente Ah eh Pensavo che fossi tu Quanti kill hai fatto? E' uno Quindi uno io e te e uno l'altro Eh sì Probabilmente Oh sono bene troppo bella Anche te Ti fai bene Un drone No fai tu Coddio che spai Fa lo stesso rumore Eh aspettiamo un altro amico Aspettiamo un altro amico Stai qua Ma in due Non è molto fuori Ma arriva a piedi Stai qua Andando No no Occhio Dove cazza che sparano? Ah guarda Sto caricando io Di lì Vedi? Dove? E' dietro 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 Eh sono ovvio E' un coglione che è arrivato tre ore dopo Eh anche noi eravamo un po' esposti dove hanno sconocito il senso qua e aspettando No ma è ancora da tutto il cuore Quell'arma di merda Ah il charge rifle dici? Eh sì Eh devono mettere un po' a posto quello Coddio quello 900 danni lo invitiamo Ah coddio Poi io faccio l'ultima Ok L'hai invitato? Eh sì vediamo E poi io faccio raid Ah arrivate arrivate Eh sì vediamo E' richiudere IntelliJ no? Ah gli trebbe Io can IntelliJ è la cosa più pesante dell'universo Porco dio Arco dio Eh arco dio E la e la e la E dai dai 4.40 Non c'è già più il sole dietro la montagna Da te E da qua c'è un soldato Ready to go Seen? No da me c'è sole C'è l'abito adesso Il sole c'è sempre No c'è sempre l'abito adesso Ma adesso è cambiato casa? Non ancora E quando la cambierò Adesso lo studio La prossima ma andiamo via La richiesta E se ce la prendono Dopo lì avrò meno il sole Però non è così Vice la montagna Quindi comunque ce l'avrò Però no Adesso gli ocani Ce l'ho da Dalla mattina Alla sera proprio Ma tanto il sole Ma tanto il sole ce l'hai Ce l'hai su Apex Non è che Hai bisogno di Eh ecco il sole su Apex Non è che mi scopri da casa Guarda lì Eh ma vai a Vai a All'Avats Io Io andrei a Dome Qua Dai andiamo lì Ho sentito E però Non tanti andranno in tanti Mi sembra Se vediamo 25 No Tanti andranno sul treno Guardalo lì Eh sì Diffico Già 10 Come 10 Dovrebbe essere 9 Cioè ma 7 Ok siamo gli ultimi Dai Ah sei tu eh zio Sì guarda lì Sul treno c'è Un team solo Ah non va neanche sul treno Eh Potremmo andare sul treno Eh ma a volte non li vedi E dopo ci sono Come ieri Eh staccatevi Non c'è nessuno Hi Agh Sk highway Mother Is Làm Chir дожд ending Sì Non c'è nessuno Quindi In Si Yes First Blood Ah, era 99, mi piace Dio che caldo, qua si spara, Dio Guardi, già sto bene Che opa Ho perso la finestra Che spara? Eh, io quale Oh, quella mi serve Posso usare questo Quando giochiamo insieme dovremmo dirci Dovremmo tipo dirci Qua c'è qualcosa e poi Se no lo prenderò magari l'altro Eh, vado in un altro palazzo Palazzo? Vado in un altro palazzo Questo qua ci sei giustato o non, eh? New Kill Leader appointed Careful Got a hop up here Choke Extended heavy mag here Level 2 Wingman here Level 3 Ho bisogno un... Backpack? No Eh, quella me lo prenderei quasi Mi piace avere uno sniperino Oh, adesso c'ho il G7 Questo qua si preferisco il G7 Sniper stock here Level 1 C'è neanche quello là C'è neanche quello là C'è neanche quello là Scusa, man Qui se ne sta andando via dal cazzo Eh, man Eh? Eh, Tao Eh, Tao Extended heavy mag here Level 2 Helmet here Ammo up Level 1 Select fire One minute to those who need it There is an extended energy mag here Ok, andiamo anche noi Vingo Ma che cazzo è stato? Perché non è... non ha chiuso di rosare? Eh, sta andando... è lontanissimo eh, sto coglione Ho preso pure il... Il coso, il pallone Hey, wait, guy Hey Kai? Arrivo Qui sta sparando qualcuno Ah, il coso Bomba Eh, ma qua c'è la gente eh C'è qua gente, probabilmente, sono passati poco fa Allora ti sto vicino Vuole R301? Sto già Però lo attendo io, penso dal 300... R99 Dove? 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 Allo? Viene un altro? Questa è quella roba lì? Eh Oh, son caduto Ah, qua Ammazzato uno Recharging my shields Allo? Com'è? Sotto da me Quello qua ammazzato è sotto da te? Dove? Non lo vedo Merda Dove? 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 E lo fincazzo Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Qua Vieni giù a salvarmi se puoi Eh, quello ha il charge rifle di porto Eh, quello ha il charge rifle di porto Non lo vedo Vieni dai IED Fuori Vieni Ogni Non l'ho no 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 eh ciao erano comunque era un team solo eh penso di si oh mi torno al lavoro ciao nero ciao no 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 Grazie a tutti.